il mio personaggio il principe a caraboni è un nobile spiantato senza denaro che ha bisogno di piazzare qualche modo la figlia perché attraverso questo matrimonio potrà continuare a vivere da nobile perché non c'è una lira io tempo di sì se ne frega del fatto che sua figlia sia innamorata di un altro la baratta il denaro di martolomeo io sono pianista vero di piano bambino il rapporto con roma è un rapporto di odio e amore quindi un rapporto dialettico sono arrivato a roma quando avevo 18 anni vivo a roma da più di 40 anni l'ho vista anche trasformarsi era molto più luminosa anche un po più simile ancora per certi versi a questa roma che raccontiamo c'era piena di botteghe di artigiani negli ultimi anni si era molto incupita e tutte queste botteghe erano diventati tutti i pub irlandesi o californiani andate a vedere questo film al cinema soprattutto